Non è la prima volta a Benevento, stasera che cosa farai al BCT che ormai è una platea molto molto interessante e importante per il mondo del cinema? Ma guarda cercherò di accompagnare questa opera seconda, questo film, sai è fondamentale per me soprattutto in un periodo come questo dove il cinema fatica tantissimo è fondamentale da parte dei registi, degli sceneggiatori, degli attori accompagnare il film ovunque più possibile per quale motivo? Anche per cercare di far crescere il più possibile anche col contatto, con la vicinanza, la passione per il cinema del nostro popolo in qualche maniera fatto perché è una passione che si sta perdendo, non ce n'è stata mai tantissima e quindi insomma riuscire a dare tutto me stesso accompagnando sia una mia opera ma anche il cinema in generale mettendolo sempre più a stretto contatto con le persone insomma mi sembra doveroso Una giusta reazione del dopo covid questa qui per venire fuori insomma a riprendere il passo giusto? Beh sai sì perché il cinema al contrario dei teatri insomma i teatri hanno ripreso alla grande insomma gli spettacoli sono pieni di gente perché c'è proprio l'effetto dello spettatore, del live, dell'artista che fa qualcosa per te in diretta e cercare quindi di ricreare una sorta di cosa del genere, non è uno spettacolo teatrale ma avere l'opportunità di avere l'attore o il regista o lo sceneggiatore che parla col pubblico e quindi prima di vedere il film instaura un rapporto con gli spettatori è sicuramente qualcosa che può aiutare